Ma cos'è Scudo per la prima volta in vendita in Italia? Noi che si occupiamo di reverse engineering, di corsi di base su live, create da noi stessi. Proteggiamo poi il nostro telefonino, magari anche come dei iPhone sviluppatori Android. Ecco qua Scudo, presentato alla gentile crentela. Gentili siamo noi. Adirittura nella custodia che è a doppia entrata per una protezione totale che non vi farà chiamare, che è questa, o poi una protezione parziale che è quest'altra, potete inserire la vostra schedina che avete appena giocato per evitare di essere seguiti dal codice a barre e che magari, voglio dire, vi faccio un dispetto vingendo un'automobile. Ecco ora, mettiamo il telefonino Yolla, che è già pieno di software open source, come ad esempio questo contour robot odukdukdugo, che è un browser open source, dentro. Per proteggerlo, in questo caso, totalmente, mettiamo in questo secondo volcro e chiudiamo lo scuro. Dopodiché, un bel cioccolatino strega e una birra serrocroce, fermentazione naturale, fatta niente poco di meno che a Montaguto, in provincia di Avellino. Dove sono state fatte addirittura esami del DNA su analisi della lunga vita. Ok.